Ho ho ho! Torna Natale a Monbaroccio! Il mercatino di Natale è giunto alla sua ventiquattresima edizione all'interno del borgo di Monbaroccio! Tante le novità per vivere la magia del Natale! Natale a Monbaroccio! 23, 24, 30 novembre! 1, 7, 8, 14, 15 dicembre! Seguiteci sui nostri social per rimanere aggiornati o sul sito nataleamonbaroccio.it Ho ho ho! Grazie!